Vento fortissimo in queste ore anche in provincia di Arezzo e anche mentre vi stiamo parlando decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco soprattutto per il rischio caduta di tegole, di piante, non solo, tutti gli interventi fino a questo momento preventivi sia in città che in provincia hanno impegnato alcune squadre dei vigili del fuoco di Arezzo. Nella zona nord di Arezzo, tra Sitorni e Puglia, un cavo di media tensione è stato tranciato sul posto sia i vigili del fuoco che i tecnici dell'Enel per ripristinare la corrente. Disagi si sono segnalati in centro storico per la caduta di un lucernario in zona San Domenico. La strada è stata interdetta al traffico nel punto di accesso della ZTL. Chiuso anche un tratto di via Laschi per la caduta di una pianta sulla strada non lontana dall'ospedale San Donato.